con la rai che oggi viene definita da molti meloniana arrivano altri sgambetti questa volta per la conduttrice il programma di ranucci tempo di grandi cambiamenti in rai con il nuovo amministratore delegato roberto sergio quest'ultimo sta lavorando per creare il nuovo team dei volti che saranno protagonisti dei programmi della prossima stagione televisiva e arriva lo sgambetto a report secondo quanto riporta dagospia pare che il programma di sigfrido ranucci non possa essere cancellato nonostante questo potrebbe essere spostato da lunedì a domenica con questo cambiamento avverrebbe un allungamento della durata delle puntate di 80 anni questo significa che ci potrebbero essere dei problemi con lo share questo come è noto non è l'unico il primo cambiamento in casa rai si parla da giorni della rottura tra fazio fazio e che tempo che fa con viale mazzini attualmente sembra che ci sia l'idea di sfruttare l'addio del noto conduttore della rai per spostare report dalla sera di lunedì a quella di domenica potrebbe apparire come una promozione per il programma e invece per la trasmissione questo spostamento potrebbe voler dire solo una cosa perdere i telespettatori del lunedì infatti c'è da considerare che i rivali nella serata di domenica potrebbero essere più importanti per report basti pensare che la trasmissione potrebbe avere tra i rivali le partite di calcio e ancora programmi televisivi già consolidati sulle altre reti televisive questo tenendo conto del fatto che ormai la serata di lunedì vedeva protagonista report dietro questo cambiamento ci sarebbe proprio il nuovo amministratore delegato roberto sergio e paolo corsini il quale oggi dovrebbe prendere le redini degli approfondimenti da dove si ha il controllo delle trasmissioni di informazione e i cambiamenti in rai chiamata ormai la rai meloniana non finiscono qui a quanto pare